Allora andiamo a vedere le preferenze del software Starkey, cioè quello che un audioprotesista dal punto di vista del fitting preferisce, ad esempio io prima vi ho detto che preferisco avere gli apparecchi muti fino a che non lo decido io, questa è una preferenza, quindi si deve andare qua dentro le preferenze, andare a scegliere generale e nelle preferenze generali abbiamo, vedete, tutta una serie di condizioni, quindi dalla lingua, il tipo di curva di risposta che voglio avere come predefinita, in questo caso la Rilirma, se ci piacesse di più vedere una curva di guadagno di inserzione previsto, basta scegliere questa scritta qua e automaticamente avremo poi sempre quella curva come prima visualizzazione. L'impostazione che a me piace mettere, che non è in default, è vedere la soglia HL, la soglia UCL sul grafico audiometrico, qualora l'abbiamo inserita nel NOA, quindi io vi consiglio di mettere il baffetto qua, altro baffetto che consiglio di mettere, se amate che l'apparecchio sia spento fino a che non lo dicete voi, è muto all'avvio. Queste due impostazioni non sono predefinite e di conseguenza quando voi installate software la prima volta non trovate queste impostazioni. Altra impostazione importante, visto che parliamo di preferenze, è nei target applicativi. tutti i target applicativi lascerei esattamente così come sono, tranne uno, il livello di correzione, gap o soglia ossea. È importante inserire la soglia ossea nel quadro audiometrico perché vi dà sempre informazioni importanti e utili durante le operazioni di fitting. Molte volte quando il tipo di sordità che andiamo a compensare è una sordità di tipo misto è più facile trattarla come una neurosensoriale pura, quindi non andare a utilizzare il guadagno extra che compenserebbe la trasmissività e quindi avendo una ossea, come in questo caso, che ha un gap non esagerato, il software di default nel suo predefinito vi compenserebbe a quel gap ossea aereo con il 25% di guadagno. A questo punto, dal punto di vista mio, è più facile mettere un'impostazione zero, inserire la ossea nel quadro audiometrico, ma non avere questa correzione che poi alla fine, nella parte pratica, porta ad avere più guadagno sui gravi e le persone non apprezzano perché sentono la voce più rimbombante, sviluppano più autofonia e di conseguenza bisogna poi intervenire con più regolazioni fine. Tutto il resto che vedete qua, comunicazioni, dettagli di spedizione, gestione file audio, update, rapporto, wireless e sound point, sono preferenze che lasciate pure quelle predefinite dal software che non hanno nessuna controindicazione. Poi si fa tipicamente applica queste preferenze, si fa ok e da questo momento in poi tutti i fitting avranno le preferenze che voi avete deciso. Grazie.